Musica Siamo nell'azienda Villa di Monticelli Brusati in Franciacorta, una delle prime aziende a produrre Franciacorta, una zona che ormai conta più di 100 cantine, l'azienda Villa produce circa 240.000 bottiglie l'anno che vanno non solo in Italia ma anche all'estero. In questa occasione stiamo degustando i non dosati, cioè con i Franciacorta prodotti senza aggiunta di liqueur, cioè sostanzialmente di zucchero. Rappresentano una doppia sfida per questa azienda ma anche per tutta la zona. Una prima sfida è quella di portare le bollicine in tavola a tutto pasto, non solo confinate all'aperitivo ma accompagnate non solo con piatti di pesce ma anche di carne. La seconda sfida è tutta in vigna e in cantina perché la possibilità di aggiungere una piccola, anche piccolissima dose di vino con dello zucchero, zucchero d'uva, consente di correggere o di ammorbidire le spigolosità, qua invece non c'è trucco, non c'è inganno, direbbe l'imbonitore delle piazze di una volta perché il vino così è e così rimane. Nella degustazione di villa sono emersi evidentemente anche l'evoluzione della moda in questo campo, fino al 2002-2003 vini con prevalenza di profumi, di sentori evoluti, quindi complessi e lontani ormai dal frutto di origine, nel 2006 comincia come una nuova stagione in cui anche il millesimato, invecchiato, affinato, anzi meglio in legno, conserva ancora i sentori dei frutti originari, la freschezza del pompelmo, del frutti tropicali e quindi ha una nuova stagione in realtà tutta da riscoprire.